Ci sono danni? Non mi pare. I templari bizantini sono dei cattivi ospiti, ma come inquilini non sono male. Una volta conquistato un posto, lo conservano intatto. Perché intendono restarci. Sì, esattamente. Bene, come promesso, se hai voglia di imparare a fabbricare bombe, posso insegnartelo? Ah, 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 non toccare. Una mossa sbagliata e boom! Viene giù tutto l'edificio. Dici sul serio? Ah, che faccia che hai fatto! Ecco, ti faccio vedere. ecco, ti faccio vedere. Grazie a tutti Le nostre bombe si compongono di tre parti L'involucro, la polvere nera e l'ingradiente primario Talvolta aggiungiamo qualcosa in più, per sfizio Ma lo vedremo più tardi Per ora, concentrati su questi elementi Ma è stato un ordigno di qualche tipo Che cos'è stato? Troverai molti ingredienti per le bombe Sparsi per tutta la città Perciò, quando te ne vai in giro Tieni gli occhi aperti E il naso a terra Mi terrà occupato Grazie, Yusuf Hai mai visto questo libro? No È un diario? Sì La crociata segreta di Niccolò Polo Il padre di Marco Ce l'aveva addosso un templare a Masiaf Accenna le cinque chiavi della biblioteca di Altair Niccolò le portò qui e le nascose Ah, i templari lo sanno Quindi è una corsa contro il tempo Ne hanno già trovata una Sotto il top capi Voglio recuperarla e trovare le altre quattro E... da dove inizierai? La vecchia stazione commerciale dei Polo Gestivano un'attività in zona, no? Credo di sì Parla con un uomo chiamato Piri Reis al Bazar Può darti delle indicazioni E... insegnarti a fabbricare altre bombe Se sei interessato Piri Reis Credo di aver veduto alcuni dei tuoi primi lavori Reis? Ti manda Yusuf Tazim? Sembra una delle sue solite esagerazioni Sì Ha detto che avresti potuto mostrarmi Dove era la stazione commerciale di Niccolò Polo Ah Tu devi essere il fiorentino di cui tanto ha parlato Enzo? Ezio Ci sono andato vicino Sì La vecchia bottega dei Polo E a ovest dell'Aia Sofia Qui Grazie Yusuf ha detto anche che avrei dovuto parlare con te di alcune bombe speciali Eh, quell'uomo Che chiacchierone Evet Sono un navigatore della flotta del Sultano Ora in congedo per studiare cartografia Ma durante il servizio Ho sviluppato anche una passione per l'artiglieria e gli esplosivi Ed è tornato comodo agli assassini Ci ha dato un vantaggio Ho molti tipi di bombe Solo per gli assassini, certo Letali, tattiche, diversive E alcune con un involucro speciale Tutto quello che vedi è in vendita Ma devi dimostrarmi di sapere come usarlo Sono ansioso di apprendere Ebbene Nessuno te li impedisce Fammi sapere Buongiorno Meraba Entrate, prego Ah, scusate il disordine Non ho avuto il tempo di sistemare da che son tornata Venite da Rodi, giusto? Sì Come lo sapete? Eravamo sulla stessa nave Sono Ezio Auditore Sofia Sartor Ci conosciamo? Adesso sì Posso dare un'occhiata? Prego I libri migliori li trovate sul retro Mi fa piacere incontrare un altro italiano in questo distretto Stanno quasi tutti nel quartiere veneziano e a Galata Altrettanto Pensavo che la guerra fra gli ottomani e Venezia Avesse costretto alla fuga quasi tutti Abitavo qui con i miei genitori quando ero fancioli La guerra ci ha allontanato Ma ho sempre saputo che sarei tornata Trovato qualcosa di vostro interesse? Oh mio Dio Chi ce l'ha messa? Incredibile Dove conduce? Perché non lo scopriamo? Voi chi siete messere? Solo l'uomo più interessante della vostra vita Che presuntuoso A presto Sofia Tornerò tra un momento Tornerò tra un momento Ah, che schifo! Hai idea da quanto stiamo esplorando questa fetida cisterna? Sono qui da qualche settimana Tredici mesi Da quando il Gran Maestro ha trovato quella maledetta chiave Ma non ha la più pallida idea di quello che fa Sa soltanto che sono da qualche parte, in città È una grande città questa Lo so, è quello che ho detto Tornate ai vostri posti, idioti Grazie a tutti Presto troveremo le chiavi Occhi aperti, eh? E guardate le porte, non i vostri piedi Sono stufo di questo Dico stufo Ho duro in questa lorduna Da non credere Il Gran Maestro ha dei suoi motivi E che mi piacerebbe conoscermi Petros, assicurati che abbiamo abbastanza fiaccole per lo scavo Sono stufo di brancolare nel buio Il Gran Maestro Il Gran Maestro Il Gran Maestro Il Gran Maestro Credo È una maggiore C'è qualcuno qui sotto con noi Occhi aperti e mani pronte Occhi aperti e mani pronte Che strano taglio quel mantello Potrebbe essere il nostro uomo Chiamate rinforzi Questo è un attacco C'è 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 un attacco